Per il sesto anno l'Addolorata viene accompagnata in processione con la grande anteprima della Scinnuta dalla banda Maestro Pietro Mascagni con il suo direttore Alberto Anguzza. Alberto, è sempre un'emozione suonare per la Madonna. Assolutamente sì, io ormai sono giunto al ventottesimo anno di Misteri, però dal 2014 è un'emozione inspiegabile, è diverso. È come se fosse una processione a sé, con tanto di rispetto per tutti gli altri gruppi e poi diciamo sempre che la processione unica è sola, quella della passione di Cristo. Però solo chi lo vive lo può capire e io l'ho capito dal 2014 ad oggi. Senti, noi ne abbiamo raccontate, me le hai raccontate tante volte queste storie, però il nonno e poi la tromba che è qui ti ha insegnato a suonarla e ti ha anche inculcato questa passione per i Misteri, per l'Addolorata. Insomma, riassumila in un attimo. Tu avevi 14 anni adesso, insomma... Io avevo sette anni e mezzo, perché il mio primo anno è stato il 93. Il 1993, il nonno ovviamente è maestro di tromba. Che cosa vuoi suonare? Io, il clarinetto, no il nonno. O tromba o niente. E quindi, ma poi lasciando stare il discorso personale mio, a Trapani chiunque suona uno strumento a fiato, il primo pensiero che le viene in testa è quello di suonare per la processione dei Misteri. Il trapanese doc, dico io, la prima cosa che vuole suonare è almeno una marcia fune, una catanisa, un povero fiore, una vella, perché ce l'abbiamo nel DNA da generazione in generazione. Poi non lo diciamo, perché uniamo il sacro al profano, la vella e questi suoni che poi hanno caratterizzato anche quella che è la tua attività con gli ottoni animati. Noi abbiamo fatto una versione reg della catanisa. Nel 2009 è uscito il nostro primo album, con prima traccia, appunto, la catanisa. Ma non è che l'avete inserita pure nell'album celebrativo che avete presentato? No, no. Ero un desiderio di molti di noi, rendere omaggio alla processione dei Misteri, al suono originale di Trapani, perché noi lo individuiamo così. C'è una marcia funebre particolare a cui tu sei particolarmente legato e che è legata appunto alla Dolorata? Assolutamente sì, perché appunto dal 2014 una mia composizione, appunto la Dolorata, è diventata la marcia ufficiale dell'entrata della Dolorata. È una marcia esclusiva, a Trapani ce l'ha soltanto la banda della Dolorata che ho il piacere e l'onore di rappresentare. È stato un sogno venuto durante una nottata lunga. Io poi un giorno ti racconterò per filo e per segno come nasce questa marcia, perché io dico solo e sempre che io sono stato un tramite, perché ogni qualvolta che io volevo modificare una nota o un accordo o qualcosa io me la dimenticavo. Addirittura. Guarda che stiamo rivistando, me lo racconterai. Assolutamente, con molto piacere. Adesso invece la banda maestro Pietro Mascagni, quanti elementi comprende? Siamo arrivati al 60-62 elementi. So che tu punti molto sui giovani. Assolutamente sì, l'85% della banda è tutto nuove leve, tutto frutto della nostra scuola di musica. Ovviamente però noi come progetto la Dolorata non vogliamo creare un numero esasperato di musicisti. Noi vogliamo creare le giuste sezioni. Qualità non quantità. Esatto. Qual è il numero ideale? Il numero ideale non c'è, il numero ideale dovrebbe esserci un ottavino ogni 50 elementi. Noi entriamo troppo nello specifico. Già, noi stessi ne abbiamo quattro, quindi dovremmo essere 200... Non può essere così. No, che so, una diecina di trombe, tra prima e seconda, quattro euphonium, due bassi. Insomma, è importante avere le sezioni coperte. Poi, chi ha partecipato al nostro progetto fin dal primo giorno, dando amore e passione a questo progetto, sarà sempre il benvenuto. Grazie Alberto. Grazie a te.